Se un giorno ti lasciassi, mi cercheresti come ha fatto Mardar? Certo. Mi cercheresti per sempre? Sì. Stai mentendo? Lei mi raccontò di un giovane corriere che passò la vita cercando la ragazza amata e persa. Pensava che tutti dovessero avere una storia d'amore così. Credo di averla vista. Allora, dimmelo, quanti soldi ti daranno? 45.000. Falco così poco per te! Torno indietro! Tornerò come sirena e un giorno noi due ci rincontreremo. Che diavolo sei? Mardar, non ti ricordi di me? No, mi dispiace. No, mi dispiace. No, mi dispiace. wellness of chestite, Prend edition про opinions off im mirATORS Experience.